ciao Tonella! Allora ma sei tornata stanotte dall'America? Si si appena tornata bellissima esperienza e tornerò lì dopo queste audizioni che sono andate a buon fine ma stavo vedendo che c'è questo mini monitor a cosa serve perché l'ho visto anche già in alcune auto americane forse voi siete innovatori che avete portato in italia anche questo strumento il coyote Antonella un dispositivo utilissimo sia per la sicurezza sia per non si dovrebbe dire per gli autovelox perché segnala tutto ciò che accade sulla strada blocchi stradali auto ferme tutte le situazioni di pericolo e segnala anche gli autovelox sui tratti stradali più pericolosi quindi è molto utile anche con auto come questa che piuttosto brillante e quindi non ci si accorge di superare i limiti anche dove sono eccessivamente bassi ah me l'ho capito ho imparato una cosa nuova oggi grazie autovelox fisso velocità con limite a 50 km orari autovelox fisso velocità con limite a 50 km orari autovelox fisso velocità con limite a 70 km orari autovelox fisso velocità con limite a 50 km orari